Siamo per i posti che non riescono a contenere tutti i tifosi, appositamente fuori sono stati predisposti altri schermi, altri monitor che daranno la possibilità di seguire lo sviluppo e lo svolgimento dell'inamorazione, della presentazione, scusate. Io adesso chiamerei qui a fianco me il collega di Tutto Sport, Stefano Saradin, che come l'anno scorso presenterà questa serata e ci aiuterà a conoscere i nuovi personaggi, grazie. Buonasera, Stefano, chiaro che come per la sala anche a me mi hanno chiamato perché ho portato fortuna, non perché sono stato bravo l'anno scorso, ma va benissimo. Io vi ringrazio per essere qui, vi ringrazio per avermi dato modo di vedere questa splendida cavalcata, l'anno scorso la notizia della promozione, della finale play-off col Carpio mi ha raggiunto mentre ero in Polonia con la Nazionale ed è stata una grandissima soddisfazione anche perché molti colleghi che erano seguiti dalla Nazionale mi chiedevano notizie sulla Provercelli e anche colleghi stranieri. Questo conferma di quanto questa squadra, questo marchio sia conosciuto e quanto serva anche questo al territorio e alla propria valorizzazione. Devo dire che ovviamente la Provercelli può fare il massimo, cioè giocare bene, vincere, stare in categoria, poi il territorio deve fare la propria parte, ma noi ci auguriamo in questa sede che sia soprattutto la Provercelli che vogliono fare. Io sono abbastanza ottimista perché ci sono quei proverbi facili, non c'è il 2 senza il 3 e siccome il presidente Massimo II ha fatto un paio di stagioni da vincente direi che la terza promette, promette bene. Proprio per parlare di queste cose, per ringraziare, invito subito Massimo II il Presidente. C'è la scaletta sempre, ricordiamo, che è l'amministratore delegato che fa il Presidente. Prima, come l'altro fa, io ho delle indicazioni ben precise dalla regia, dobbiamo stare sulla riga, se no ci iscrivano. Quindi bene, dicevo il Presidente. Beh, continuiamo con la scaramanzia, siamo saliti così l'anno scorso e quindi anche quest'anno. Devo dire che c'è scaramanzia ma non ha anche grande fiducia nella squadra, poi tutto fa ma insomma c'è grande fiducia. Beh, io credo che questo di quest'anno sia di nuovo un gruppo eccezionale come quello dell'anno scorso. Molti sono con noi dell'anno scorso, i nuovi li conosco ancora poco ma mi sembra che siano perfettamente integrati e quindi sono convinto che questo gruppo ci darà grandi soddisfazioni. Le soddisfazioni che noi chiediamo sono sempre le stesse, quelle di dare il 110%, quello di finire stanchi, quello di finire avendo dato il massimo e poi i risultati verranno anche quelli. Noi quest'anno abbiamo da giocare un campionato particolare, un campionato a sette squadre dove dobbiamo arrivare primi, dovevano lasciarne dietro sei e quindi questa è la promessa che con tutto il gruppo mi sento di fare, la salvezza e il mantenimento di una categoria che mancava a Garcelli da 64 anni. Stiamo facendo grossi sacrifici sotto tutti i punti di vista, anche ragazzi abbiamo avuto qualche ritardo sul campo di via Vicenta dove speravamo si potesse allenare di quello del ritiro, abbiamo avuto la sovrintendenza che ha cercato per quasi un mese, non so se la piramide di Cheope o il tesoro di Ramsette Terzo, non l'ha trovato, adesso abbiamo potuto riprendere a lavorare e presto anche loro riusciranno ad allenarsi su un impianto adeguato, oggi devono un pochino sacrificarsi così come si dovranno sacrificare per qualche domenica ad andare a giocare a Piacenza. È un sacrificio inevitabile, io ringrazio Andrea Corsaro perché ci ha dato una mano importante anche contro tutte le burocrazie di tutti i tipi per poter fare in modo di toccare a casa prima possibile. Però io chiedo a tutti voi di andare lo stesso per queste 4-5 partite che ci saranno da seguire a Piacenza a dare il vostro sostegno a questo aspetto di gruppo di ragazzi. bene. Intanto ho capito di parlare di un po' dei retrosceni di questa stagione, come avete lavorato questo gruppo di anche intelligenti, quando vi siete accorti che poteva succedere qualcosa di importante. Diciamo che la consapevolezza del ruolo e del risultato è venuta chiaramente nel tempo, l'anno scorso di questo periodo il Presidente ha fatto lo stesso identico discorso, cercheremo di mantenere la categoria, era il primo obiettivo che ci siamo posti. Certamente in cuor nostro, avendo lavorato con Giancarlo all'estimento di una formazione importante, c'era la speranza di poter far bene. È chiaro che poi questa speranza è diventata realtà col passare del tempo, è chiaro che la forza di questa squadra sta ovviamente nel gruppo, nello staff e soprattutto nel fatto che c'è un grosso finito tra società e squadra. questo ovviamente la squadra l'ha sentito, l'ha sentito il pubblico e come per l'incanto questa magia ci ha portato questo splendido risultato. bene, non dimentichiamo che prima il Presidente parlava dell'allenamento, non dimentichiamo che adesso c'è un pozzino che magari vi crea dei problemi, però questo signore che magari tutti ricordatevi nel campo è stato per due anni, per due mandati Presidente della Federazione Gioco Calcio e per un mandato Vice Presidente della Federazione. Non proprio dettagli per dire come noi Vercelli spesso si travasci un pochino di ricordare, di sottolineare, di valorizzare. Ecco, questo è un salto di qualità che questo ritorno nel calcio deve consentirci di fare. Quindi magari Bozzino sarà uno degli argomenti di cui si potrà parlare nel corso di quest'anno più importante, anche perché la Provercelli compiere quest'anno 120 anni, il resto è un traguardo assolutamente fantastico. Adesso io so che tra i più grandi premi che vi hanno segnato, che avete aggiunto, ce n'è uno che a me sembra particolarmente carino, quindi vogliono consegnare i veterani della Provercelli. Quindi io chiamo il Presidente, avevo visto prima Giovanni Pirova e gli altri rappresentanti per Marco Polosco, il Presidente, che ha fatto la storia della Provercelli. Mettiamoci più avanti, se no non ci vedo. Venite avanti, venite avanti. Giovanni, venite avanti, venite avanti. Non ci vedono? Ecco qua. Allora, Pirova, insomma, attraversare la Provercelli, ho fatto anche quella di calcio. Devo dire che rivedere a Provercelli è una grande soddisfazione, no? È una soddisfazione che gli sportivi meritavano. Noi ex veterani siamo soddisfatti e siamo i primi di forse di questa buona società. Il premio si lo consegno io, premio strameritato a nome dei veterani della Provercelli, è una foto ricordo della rosa dell'anno scorso, compresi Rizzi II e Romairone, anche se non sono mai scesi in campo. Questa è a ringraziamento e come privilegio di aver fatto parte di questa gloriosa società. Io voglio ringraziare anche una cosa che è il tuo più importante lavoro con i ragazzini, poi soprattutto se lo guardate nelle foto in cui quando giocavo con la trampa erano tutti a pelli, ma è sempre lui. Ecco, io voglio ringraziare veramente di cuore e soprattutto ricordare che io ho ricevuto da loro un altro omaggio che conservo gelosamente nel portafoglio della tessera moraria della loro associazione, perché a me è fatto molto piacere e di cui ho avuto grande soddisfazione. Però non sei ancora un problema, non ne passa. No, non sono ancora anche se questi due anni sono stati lunghi come venti a livello di emozioni e di impegno. prendendo l'ammiggio d'alunissimo uno dei connetso players. E' l'assessore allo sport della provincia mezzettra di Giorgillardino. Allora, teniamo un po' babe. Presidente, parliamo di in abitazioni. No, scusate bravo. Ragazzi, scusate bravo. Però... Ragazzi, scusate, ragazzi, scusate. E' più facile imprendere in strictly la finita come lahakifica. Scusate, ma se non va bene, ragazzi, scusate un attimo, ragazzi, ragazzi, scusate. Va bene, adesso la vostra posizione è chiara, andiamo avanti. Poi devo dire, tra l'altro, devo dire, scusa, scusa, no, questo non è possibile, un altro comando io. Devo dire che io, da lettore, perché la città la frequento non più da giornalista, ma da lettore, ho visto che ci sono stati dei sondaggi in cui la maggioranza dei vercellesi si è detta contraria al fatto che fossero spesi dei soldi pubblici per sistemare lo stadio, che tra l'altro è di proprietà pubblica. Quindi, voglio dire, prendiamoci la in aggiunto con i nostri vicini di casa e non solo con le istituzioni, che hanno le colpe, ma che dicono, stanno rimediando. È vero che state cercando di rimediare il sindaco? Non vuoi capire le colpe? E là ci sono, non vuoi capire le colpe. Grazie, però, scusate, 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 scusate un attimo. Allora, cerchiamo un attimo di capirci il perché. Tanto abbiamo respirato un po' di odore di staneato, pirovano, e se posso dire, ma l'ho detto che secondo me non è sceso in campo, non è vero, perché insomma, sceso in campo il Presidente è sufficientemente fumino, perché in questo periodo, in questi due anni, in campo è sceso con grande capacità e la capacità di questa società di organizzare è stata vincente per arrivare i risultati. Se le polemiche sono per lo stadio, le polemiche, è bene chiarire subito, noi abbiamo uno stadio che ha una sua età, è uno stadio che è sotto vincolo anche architettonico, la nostra è una città che non prevedeva l'ampliamento dello stadio e con l'impegno anche proprio della società si è capito che la federazione ha la necessità di lavori di sicurezza e non di lavori di ampliamento per numero enorme di posti. Con la società e con gli operatori abbiamo fatto un nuovo programma per far sì che la società e la squadra possa giocare in tempi rapidi, più velocemente possibile, a casa propria. Ci sono una serie di procedure che devono essere seguite e si stanno facendo esattamente con il cronoprogramma le cose che sono state organizzate, con i tempi che sono stati programmati perché ad agosto, in questo mese di agosto, sono state fatte tutte le forniture, le forniture verranno poste esattamente nel momento in cui gli altri step del cronoprogramma non si può rischiare di mettere i seggiolini per vederlo rotto nel momento in cui si mettono i binari della cancellata, della rete che viene modificata perché la visibilità e la visualità sia per quindi il cronoprogramma dove la piano che è terminato con la società andrà esattamente nei tempi che abbiamo stabilito insieme alla società per avere la Provercelli nel più breve tempo possibile nel proprio stato. Ma siamo già in grado di stabilire una data o più? Siamo già in grado di stabilire una data o più? Allora, perché questa mattina dice ci sono le realtà? Allora, quando noi abbiamo iniziato, sono testimoni inizio e secondo, due mesi prima dei finali a progettare le modifiche allo stadio che potessero essere fatte da FASICCHI e l'osservatorio nazionale ci desse le autorizzazioni per la serie. facendo i dovuti scongiuri abbiamo iniziato a lavorare due mesi prima per cercare di avere già il progetto pronto. ottenuta la promozione dei progetti che sono andati avanti con le modalità e con l'organizzazione dei tempi che sono proprie di lavori che costano, sono procedure di lecce e il cronoprogramma stabilito ad oggi le cose si sono compiute così come abbiamo programmato. Se i fischi ci saranno, ci saranno nel momento in cui il programma un'organizzazione. Allora, questo programma un'organizzazione prevede una fine di lavori, l'IVA, perché l'idea... possiamo dire tranquillamente che la fine lavori è per il 15 di ottobre. Quindi noi abbiamo in considerazione del 15 di ottobre tutta una serie di step perché si era provato a luglio, ad agosto a preparare le posture, a preparare i fischi. Non è che lo stadio deve andare avanti perché il tifoso deve vedere, il tifoso deve avere il risultato. Se non si ascolare, rispettare i fischi, allora i fischi saranno meritati. Io invece farei un grande ringraziamento a tutti i funzionari, a tutti voi che hanno lavorato, ad agosto... Io rispetto il diritto a contestare se... Anch'io però, la gente deve sapere, la gente deve sapere come stanno le cose. Le cose sono con delle programmazioni che si stanno contendo regolarmente. E' un fatto che in prima della stessa, nel 2016, la gente deve sapere, questo è una cosa che si tratta. E' un qualcosa che si tratta. In prima della stessa, non si tratta, non si tratta. Allora, si tratta, ragazzi. Ragazzi, stasera. Adesso abbiamo il primo, C'è una connessa formata di lavori e di loro, ma ci sono cose, ci sono cose, ci sono cose, io credo che tutti qua, dalle discussioni, anche voi, vengono da fare, stanno attenti. Vengono dai via, tagliate, venga, sei deiiovani, vengono thi, sei dei più falloni, che sono dei suoi partiti, ne abbiamo già accorgato. Come noi, noi non il tempo, c'è qui, abbiamo già accorgato. Grazie. Vorrei dire che c'è stato un grande impegno e c'è una grande volontà da parte di tutta la città, di tutta l'amministrazione di seguire la strada, sulla squadra, su questa grande avventura. Quindi i primi interessati che questo siano giorni da vivere per centi siamo noi. Che per ora non si canta a scuola. No, assolutamente. No, ragazzi, però una cosa voglio dire, grazie per il coro, però una cosa la devo dire, mi conoscete abbastanza, sapete che dico sempre le cose che penso, anche al posto di farmi qualche volta dei mici. Allora, Andrea Corsaro, se fosse diverso lo direi qua pubblicamente, Andrea Corsaro è il questore che è seduto qua in prima fila, hanno fatto il massimo possibile per accelerare le cose. Poi proviamo a ricordarci che nel sindaco, nel questore, sono loro materialmente che possono andare a realizzare le cose. Sappiamo come funziona la burocrazia in Italia, a tutti i livelli, non solo a Vercelli, ma dappertutto. E quindi questo è quanto, se fosse diverso, sapete che ve lo direi. Il sindaco ci ha fatto una promessa, ci ha detto che il 15 ottobre le cose saranno finite. Io vi faccio una promessa per quanto riguarda me, la parte che deve fare la burocrazia sarà sicuramente finita per quella data. E credo che nel promessa del sindaco non sia il promessa di Maricario, che ci vuole un rispetto giusto per le figure istituzionali che sono qua questa sera. Quindi, direi che la questione del stando esaurito, tra l'altro mi corre l'obbligo di ringraziare, anche a prima della società, l'amministrazione comunale di Piacenza. Perché poi va detto che ci sono altre comunistazioni comunali vicine a altre questure vicine che hanno rifiutato consenso alla Torre Celle per ragioni abbastanza opinabili di ordine pubblico. Perché poi queste cose vanno anche dette. E saluto l'assessore Gilardino e la provincia ancora di Piacenza, giusto? Perché si capisce che è normale, voi siete ancora di Piacenza. Stendiamoci la provincia. No, io davvero oggi ho una domanda di festa, capisco anche, oggi capisco tutto. In questi due mesi, non ricordavo prima il presidente della Corsano, io ho avuto la soluzione di lavorare a stretto giro con loro. E all'inizio le preoccupazioni non erano, quindi ci sono un problema. Va ricordato, la preoccupazione vera era, si giocherà gli accendi o tutto l'anno si giocherà da una parte. Se non era per, in modo particolare, però posso dire, due persone che non hanno mai smesso di crederci e di lavorare, questi sono il presidente secondo e il presidente. La provincia, e porto un saluto, è una vecchia notte, il presidente che purtroppo oggi non può essere qua, ha fatto, è quello che poteva la sua parte, ha cercato di essere vicino, ha cercato di collaborare, ma veramente, gli attori fondamentali, i protagonisti, siete voi, e poi partentici ragazzi che io conosco bene, ci hanno arrivato questo sogno della Serie B. Una cosa che abbiamo ancora ricordato, e mi permetto di interrompervi per farlo, è che quest'anno abbiamo un'altra grossa comitante, la squadra primavera, che a Marcelli non c'era da tanto tempo, e qui il contributo della provincia di 200.000 euro per dotarci in campo sintetico in via Vicenza e per dotarci del convinto per ospitare i ragazzi della primavera, dagli agli agli aziali, è stato un contributo determinante, non di parole, ma significativo, importante, e quindi credo che questo ente che, dicono, andrebbe abbonito, si metta un applauso, a parte della provincia di Marcelli, per le solite informazioni. Applausi Per la prima volta, tra i 64 anni, si trova anche un comune, un imprenditore mercendese, che crede nella sua città, che crede nel suo territorio, le istituzioni non possono fare gli istruzzi, riccite le parole che avevo detto, con la testa di stronsalma devono essere presenti. Credo che quello che vogliamo fare l'abbiamo fatto, correndo comunali al di là della burocrazia. Grazie Presidente, ringraziateci un altro sogno, in modo particolare a voi ragazzi, per essere ancora qua un altro, così contempli come oggi. Grazie a tutti. Grazie, ringrazio. Adesso, cominciamo. C'è ancora una cosa, perché mi hanno messo in tasca i miei collaboratori, una raccomandazione. Mi hanno detto, c'è una partita, il 23 dicembre, bisogna che diciamo che è una partita con un'altra. Non è una partita con un'altra, è una partita con il nuovo alcanzo, ufficiale, in Serie B, se abbiamo da tanti anni, ed è una partita che vogliamo vincere, lo vogliamo vincere in due modi, sul campo e fuori. Lo incominciamo a dire adesso, questa è una partita non come le altre, ci darà tre punti come tante altre, ma però saranno tre punti che vanno a 30. ed è una partita in cui dobbiamo dare una lezione di calcio sul campo, è una lezione, e non ho dubbi, su questo, ma è quello di Marcelli, uno dei pubblici più corretti d'Italia, dove dobbiamo dare una lezione di potenza e fuori. Grazie. Marcelli, in Serie B dopo 64 anni, e quindi io che amico sul palco, i modelli in carne rossa, il portiere Valentini, di Marcelli, in Serie B dopo 64 anni, la campanità di Carli, la campanità di Carli con la Maglia di Anja, la campanità di Carli con la Maglia di Anja, C'è la mano con la maglia rossa, tutti celebri, e poi è capitante la pradea Comino con la maglia, quindi, stiamo tutti, venite un po' anche, grazie a tutti. Allora, alcune cose da notare su questa maglia, prima di parlare del risponso, sono importantissimi, ragazzi, risfogate loro, risfogate sabato sera, presto i magli, prima di passare il risponso, volevo farvi notare, farvi notare questa scritta che c'è sotto al simbolo della Provercelli, 1892-2012, 120 anni tra storia e leggenda. Siccome è diventato di moda scrivere delle robe sulle maglie, 30 sul campo, sguardo di tutto il mondo, la Provercelli fa bene a ricordare che è la società sportiva più antica d'Italia. Io direi che... Poi, notiamo appunto che c'è una nuova sconsolizzazione, la Primavera ha la sconsolizzazione della Edilnol, Bianca Mano è risobbiato con la prima squadra, e dobbiamo anche ringraziare lo sconsolterito in Rea, rappresentato qui, c'è Moreno Bertazzo, e fa sport con Davide Ferraro e Marzio D'Anni. Io ti avrei... E intanto ringrazio i ragazzi, potete andare, perché siete stati bellissimi. E per parlare di questa sconsolizzazione che sono importantissime, avrei sul palco Piervalo Pizzibone, rappresentante di Bianca Mano, Grazie a Enare Pinto, l'administratore delegato di Senior Service e Antonio Trada di Edilnol. Grazie a Enare Pizzibone, vi dicevamo che era per gli attanti, e non ci sia lui, perché è già successo l'anno scorso, ma non solo, ma ragazzi, lui fa un lavoro straordinario, i dirigenti... Però Giancarlo è veramente l'anima della società, della squadra, il contatto tra la dirigenza e i giocatori. Prendetemi, io l'ho visto giocare, ho iniziato a fare il coronista di Vercelli, c'era la coppia Romairone Murgita, questo inverno li ho visti al mercato, perché Murgita fa il secondo di Carlo, volevo inginocchiarmi, perché ci hanno regalato grandissime emozioni. E quindi è anche affetto quello che mi lega lui, ma credetemi anche nell'ambiente calcistico, dei direttori sportivi, ambiente pessimo, stimatissimo per la capacità di lavoro. Credo che mi vada riconosciuta molto questa cosa anche da voi. È troppo buona. È un'ambientata, non lo direi. Allora, prima, un secondo solo, prima di presentare la squadra, credo che sia giusto però dire una cosa importantissima, che tutto quello che è stato fatto in questi anni è stato fatto grazie a un grande legame, quello della società, la squadra e della città, intesa come tiposeria. Quindi per noi quest'anno sarà determinante che questo grande legame, questa grande unione che si è così creata, perché poi alla fine non è solo che sono delle cose che si possono costruire prima, si è creata perché in questi due anni è stato un feeling clamoroso tra società, squadra e tiposeria intesa come città. Quindi noi, se vogliamo mantenere questa categoria, che sarà, credo, molto difficile, ma che dovrà essere per forza il nostro obiettivo, che per questo legame non potrà avvenire meno. Quindi, al di là del fatto che si dovranno fare dei chilometri, al di là del fatto che assolutamente noi non vediamo l'ora di giocare a Vercelli, se ci sarà da andare a piacenza, credo che si debba essere tutti presenti, tutti uniti, perché sarà la base di quello che potremo fare quest'anno. Giustissimo. Io, perché c'è questa fissa delle notizie, speravo di potervene dare una di mercato, ma Giancarlo mi ha detto che è ancora presto, aspettiamo, ma mi auguro che presto avrete anche questa buona notizia. Allora, noi ci mettiamo qui nell'angolo, chiamiamo i giocatori uno per uno, i giocatori si metteranno lì, verranno avanti, poi si metteranno vicino alla parete. Quindi possiamo cominciare con la presentazione ufficiale della squadra della Provercelli, che torna in Serie B nel 2011, 2012-2014. Eccoci. Alex Valentini, numero uno. Numero due, Marco Spirano, numero 12, Marco Spirano. Numero due, Marco Cancelloso. Numero tre, Stefano Murano. Numero quattro, Alessandro Ranellucci. Numero due, Marco Cancelloso. 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 Matteo Di Giazzo Numero 8 Caimano Carini Numero 9 Gianmarco Zigoni Numero 10 Gianni Fabiano Numero 11 Pietro Ian Mellor Numero 13 Francesco Cosenza Numero 16 Angelo Prince Venga Numero 17 Manuel Scaboni Numero 18 Giacomo Casu Numero 19 Umberto Germano Numero 20 Federico Carrado Numero 21 Micho Espinal Numero 21 Número 21 Número 24 Numero 25 Massimiliano Scaglia Numero 27 Andrea Rosso Numero 28 Numero 28 Vi dovete accontentare della foto perché ha messo inocenti e con la nazionale argentina direi un applauso straordinario numero 28 Número 22 E in fine Ilio Desilberto numero 30 Número 27 Número 23 Número 23 Now Alessandro Colone, validissimo vizio. Alessandro Colone, attivolo il vizio, attivano il vizio, attivano il vizio. Stefano Portonà, preparatore a tempo. E' grande salto perché ha rossosso la squadra a forso fino all'ultimo del play-off. Antonio De Giorgi, preparatore del quartiere. Fabrizio Pessenti, masso fisioterapista. Abbiamo bisogno di un po' tutti, ecco, a vista dell'età che c'è. Vediamo poi il signor. Stefano Francese, collega, masso fisioterapista. E' fine Giorgio Pettolone, mercendese a tempo, recupera gli infortuni. Bravissimo, anche lui. Manca il team manager, il Matteo Cacchiano, il nuovo team manager per quest'anno. I due responsabili dello staff medico, il dottor Albertin e il dottor Scalzo. Bravino, chiedi. Eh, niente, ho insistito moltissimo ragazzi, mi ha rito, eh. Secondo me il pari di giorni c'è una faccia. Ehi, si porti io, si porti io, si porti io, si porti la reale. Vabbè, allora ragazzi, in attesa, i tuoi figli che lo saranno, ci vuole arrivare, concentrarci su quelli che ci sono già, che sono comunque bravissimi. e quindi mi consiglio direi di fare un passo avanti ai nuovi acquisti di quest'anno. Gli altri, meno male, un po' di povercelli e capolcucci. Quali di fuori? Un passo avanti ragazzi, forza. Dai, dai, forza, forza. Non fate giochi! Passo a mano! Olto! 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 Allora venite le rappresentanze di nuovo amico. Lui mi ha detto che una donna ha coltato il saletto, io mi chiamo Scaglia. Vieni tutti passo a mano. E' carini e con il quale possiamo buttare. Tu a Verona stai giocando per me la stagione. E' straordinario. No, a tre! Uno o quattro ore? Alza rossa! Sì! Sì! Ancora ricordi, bellissima. Verona è un anno promosso, giusto? Ecco, è vero. Una storia di una grande città. Però quale è lo spirito giusto che davvero non avevo promosso in serie? Ma... Vabbè, la consapevolezza che... La campionata di Venezia è sofferto lungo, però... I presupposti sono sempre gli stessi. Se è una squadra organizzata, la squadra è subito di entusiasmo, in qualunque categoria, che si possano ragionare i risultati inaspettati. Ecco, è un risultato che mi ha aggiunto i tre quali inaspettati, proprio con queste... Quello che mi ha detto. Ecco, quindi... sono gli altri, e credo che valga più... di tanti nomi, e... di tanti segnatori, o di quant'altro. Nel entusiasmo, credo, ci possa dare una campagna. e... E invece... Se vuoi dire che c'è un'ottima disciplina nel gruppo? Che fa casino? Ma abbastanza, sono parecchi giovani, però... sono bravi. E la scelta di migliorare scelta, perché ho convinto il progetto, perché... è una società seria, già nell'ambiente... è anche una società seria, è una squadra che non è promossa, e infatti è entusiasta, è un entusiasmo, se possono aggiungere, è importante. Ecco, tra di voi... di cosa parlate? Un campionato... normale, più classifica, la salvezza, oppure volete ancora più solare, che avete già detto che il vostro potenziale fa? Qual è il tema? Ma credo che... innanzitutto... non bisogna fare i corsi venini, però... se è più un campionato giunto, è un fattivoso, quindi... prima... poi... grazie! Allora, per chiudere, volevo chiamare il ministro, grazie! Sì! 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 Ha continuato un'impresa storica, non c'è niente da dire, che avranno già fatto mille domande, mille volte, ehm... hanno recuperato, e c'è, sui giornali di Guadagnoli, che si tratta di un personaggio, no? Questa cosa, di proporre un modo così, come dire, low profile, ehm... Ah! Io sono... No! 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 Ma c'è una grande soddisfazione per il fatto avere un punto di impresa? Beh, la soddisfazione, per me, è... 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 per me è stato il massimo, è una cosa che mi resta da sempre, e quindi... è la cosa, la vediamo ora, pensando che adesso, bisogna aiutare un campionato, che secondo me c'eravano i miei cittadini. E' una nuova squadra, hai dato il SIS? Eh... Una squadra, da buone situazioni, però poi... si tenerà traspostata sul campo, e vedere come si vuol dire la raccoglie. Bene. Tutti bene. Tutti bene. Tutti bene. Tutti bene. Tutti bene. Mi ricordo che... Allora, da domani, mi pare, a Boercelli, si asferisce a Piacenza. Eh... Noi abbiamo saputo che è una situazione temporanea. Voi sabato, eh... fate questa gita a Piacenza, perché è un'occasione storica, che non potete andare. Grazie. Ecco, ora, ora, scusate, c'è un ripresto organizzato dal principe, fratello Donauro, siete tutti invitati. Grazie. Grazie a tutti, yogikal determin collaborative, grazie a tutti, grazie a tutti. Qual s'ilete facili da K Nevada, è solo dei ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.